Grazie alla sinergia fra Intesa San Paolo, Panduit e Stinted Group sotto la guida di Coima è stato possibile realizzare l'infrastruttura di networking passiva del grattacielo Torre Gioia 22 soprannominato la scheggia di vetro. Un edificio unico alto 121 metri costituito da 30 piani per una superficie totale di 68.432 metri quadri. Intesa San Paolo è nota per l'attenzione che pone in tema di sostenibilità e Torre Gioia 22 è senza dubbio green e smart. L'edificio ha ottenuto certificazione LEED grazie anche a un approccio cradle to cradle nella scelta dei materiali. Inoltre la torre possiede oltre 6.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici e con sostenibilità, design e tanta tecnologia come quella fondamentale che ne garantisce i servizi di automazione interna per approdare la rete IT, abilitatrice di moltissime applicazioni di sicurezza, di comunicazione e di collaborazione. Per questo il ruolo di Panduit è stato fondamentale. Per far fronte anche alle nuove richieste di dispositivi e applicazioni connessi al sistema informativo, la direzione IT di Intesa San Paolo era alla ricerca di una soluzione che potesse garantire il massimo delle prestazioni, subito e nel tempo. Pratica voleva una rete per l'automazione dell'edificio e dei dispositivi sempre più connessi come telecamere, access point, tutti ormai rigorosamente power over Ethernet, dal data center di edificio alle sale di telecomunicazioni, agli uffici, alle sale meeting, alla collaboration e alle sale consiglio come quella in cui mi trovo io ora. La scelta tecnologica di Intesa San Paolo è stata per la soluzione Panduit Vari Matrix Technology con cavi e connettività certificati EPD, Environmental Product Declaration e HPD, Health Product Declaration, validi per ottenere punti per la certificazione LEED V4 rilasciata dal Green Building Council. Abbiamo condiviso con Stintec Group la nostra competenza ed esperienza lato data center posizionando il nostro sistema di armadi intelligenti preconfigurati Flex Fusion unitamente alla nostra linea di PDU intelligenti, non meno importanti gli armadi della linea panzone da parete e armadi aperti con la gestione ottimizzata del cablaggio patch runner utilizzati nei locali tecnici di piano. I benefici ottenuti sono già visibili in termini di innovazione, design ed efficientamento. L'infrastruttura flessibile aperta alla crescita e a nuove applicazioni nei prossimi anni rende questo progetto scalabile e in continua evoluzione, una realizzazione della quale andare fieri e che fungerà ad esempio a quelle che seguiranno.